I giorni Fabriano ospiterà il Forum Unesco delle Città Creative con delegazioni provenienti da tutto il mondo. La città si candida come sede del Forum Mondiale nel 2017. Il servizio è di Claudio Sargenti. Mettere in rete, fare sistema, idee come creatività, industria della cultura, nuova occupazione, turismo culturale è questa la sfida che si propone il Forum Unesco delle Città Creative che per tre giorni animerà Fabriano. Sarà l'occasione per un momento di confronto sulla trasformazione in atto dell'economia e del tessuto produttivo e sulla necessità di alimentare il comparto manifatturiero con quello creativo. Dentro questo quadro ci sta la nostra riflessione per un futuro diverso che integra quello che è la nostra attività, che è l'impresa ancora, ma in questo caso la cultura, il turismo, la manualità viene riscoperta per darci un nuovo slancio. Per Fabriano è stato un riconoscimento per l'antica tradizione artigiana, ma il Forum Unesco va al di là degli ambiti comunali per rappresentare un'opportunità per l'intera comunità regionale. Siamo piccoli, dice Ceriscioli, citando l'intervento di ieri del premio Renzi, ma abbiamo un patrimonio straordinario che se adeguatamente valorizzato può rappresentare una grande opportunità. La possibilità di spendere un'immagine, che vale ovviamente per la città di Fabriano, ma vale per tutte le marche, come territorio che attraverso la creatività è capace di mettere in gioco quel valore aggiunto che ci permette di essere forti e competitivi, riconosciuti nel mondo per le nostre capacità. Per tre giorni si confronteranno dieci città con delegazioni provenienti dalla Corea del Sud, dagli Stati Uniti, dalla Francia, Senegal, Libano e Haiti, assieme a Bologna e Torino. Dobbiamo dare il senso della comunità e della creatività, spiega Francesca Merloni, ideatrice e animatrice del Forum. Buttiamoci con coraggio a guardare avanti, aggiunge, perché sarebbe bello pensare ad una città migliore dove vivere. Fabriano è stata designata dall'UNESCO nel 2013 città creativa per il patrimonio immateriale della fabbricazione della carta, quindi per un antico sapere che a questo punto cerchiamo di declinare e di innestare alla base di uno sviluppo futuro.